Buona serata e ben ritrovati su Rossini TV, in questo spazio andiamo a parlare con il direttore di Confcommercio Pesarurbino, Marche Nord, Amerigo Varotti. Benvenuto Amerigo. Ciao, buonasera. Questo è l'ultimo spazio di questo 2021, quindi faremo un po' una sorta di sintesi dei progetti di Confcommercio di quest'anno e quelli che si andranno a fare per il 2022. Ma prima vorrei parlare di cose fresche, fresche di giornata e in modo particolare vorrei da te Amerigo il tuo parere sulla circolare proprio relativa al turismo del Ministro Speranza. Sì, è un ennesimo danno al comparto del turismo questa direttiva che il Ministro Speranza ha emanato, che prevede per tutti i paesi europei, per i turisti europei, la possibilità di entrare in Italia, anche se con Green Pass, ma comunque devono fare il tampone. È un'assurdità e siamo l'unico paese europeo a prevedere questa disposizione, tant'è che c'è anche una contrarietà forte da parte delle istituzioni europee e da parte degli altri paesi europei. Per quanto riguarda il nostro turismo è veramente un altro colpo, vero è che già eravamo in forte difficoltà perché l'espansione di questa variante e l'aumento dei contagiati ha costretto il governo a emanare disposizioni più restrittive per quanto riguarda il movimento turistico e l'accesso nei ristoranti, il Super Green Pass per intenderci. Questo ha già prodotto danni incalcolabili. È vero. Noi anche questa settimana abbiamo ricevuto disdette pesanti per eventi e gruppi che dovevano venire dalla nostra provincia per il Capodanno o per il Natale, ma parecchie decine di persone, disdette perché ovviamente… Come tour operator. Come tour operator di Conf Commercio, sì. Anche perché basta una persona nel gruppo che non è vaccinata o non ha il Super Green Pass, non basta più o meno il tampone e arrivano le disdette. Stiamo riscontrando anche forti difficoltà nel mondo della ristorazione con pochissime prenotazioni per il Natale e tante cancellazioni per il Capodanno. Quindi già il settore era in forte crisi e la giunta di questa circolare, di questa disposizione del Ministro Speranza, anzi devo dire di questo governo, perché poi quando le cose vanno bene, diciamo bravissimo il governo Draghi, quando le cose vanno male è la colpa di Speranza, la colpa di Pinco Pallino, ma il governo emana una disposizione che contrasta con gli interessi economici del Paese, che crea ulteriori danni. Pensiamo al mondo dei tour operator. Io sono anche presidente di un'associazione di tour operator, Assomito, l'associazione Mark Incoming Tour Operator, che sono operatori che fanno solo incoming, non come altri che dicono di fare incoming, ma poi invece basta vedere nei loro siti e vendono il mondo e poi ogni tanto fanno anche incoming. Ecco, questi operatori dell'incoming sono fermi da due anni e adesso c'era l'aspettativa di ripartire, incominciando con le festività natalizie e avere un 2022 positivo, in realtà si ritorna ai tempi bui di fine 2019, inizio 2020. E la cosa grave è che nessuna istituzione, né il governo né la regione, hanno capito la difficoltà di questo settore e nessuno ha messo un euro, anche i provvedimenti governativi, non c'è nessun ristoro. Questa è la cosa grave, Amerigo, perché il problema e la difficoltà, il periodo che è stato vissuto e ancora purtroppo viviamo, è complicatissimo perlomeno avere un supporto per questi tour operator, per i ristoratori, insomma, che si ritrovano, come dicevi tu, ad iniziare un nuovo anno con poca speranza. Certo, con il ministro Speranza. Ecco, poca speranza con il ministro Speranza. Noi abbiamo fatto, settimana scorsa, come FTO, che è la federazione del turismo organizzato di Confcommercio, a livello nazionale abbiamo lanciato un messaggio di grande preoccupazione. Insieme alle altre confederazioni del turismo abbiamo anche calcolato che se perdura questa situazione, senza sostegni da parte del governo o delle regioni, la metà delle imprese del turismo organizzato chiuderanno con oltre 10.000 dipendenti che andranno a spasso. E qui bisogna che il governo, non basta che faccia le disposizioni, chiudi, super green pass, pensiamo all'assurdo, qui bisogna poi interpretare tutte le circolari. Nel mondo dell'albergo, le strutture ricettive, ma solo negli alberghi, e quindi non nei bed and breakfast, ad esempio, nell'albergo puoi entrare con il green pass normale, però per mangiare nella sala, dove ci sono evidentemente anche clienti non alloggiati, devi avere il super green pass. Perché? E poi, ripeto, solo nelle strutture ricettive, negli alberghi, nelle altre strutture ricettive, no, non c'è bisogno. Quindi è un'incongruenza gravissima. Poi questa cosa degli annullamenti pesanti, dei viaggi, dei soggiorni per l'incoming, veramente necessita da parte del governo, ma anche da parte della regione, dei sostegni. Perché altrimenti le imprese chiudono. Ci sono comparti economici che hanno, anche nella nostra regione, tantissimi soldi che derivano da fondi comunitari o anche da bilancio regionale. Io credo che è l'occasione buona per trasferire parte di queste risorse all'unico comparto, l'unico comparto, quello del turismo, che necessita di sostegno. Se vogliamo far morire centinaia di imprese, licenziare centinaia di dipendenti, e con un costo pesantissimo per l'economia marchigiana. Perché anche se ancora si fanno dei convegni per il rilancio delle marche, dell'economia marchigiana, pensando solo nel manifatturiero, in realtà l'unico settore che non licenzia dipendenti, come le grandi multinazionali che anche nelle marche stanno licenziando per trasferire le loro produzioni all'estero, l'unico settore che ha mantenuto occupazione e il numero di imprese è il settore del turismo. Non si capisce perché questo settore debba essere sempre considerato la cenerentola a livello economico. Quindi Amerigo, tu cosa vorresti chiedere ad esempio alla regione Marche? Cosa può fare la regione Marche per aiutare questo settore? In modo veloce però. In modo veloce le aziende della ristorazione e soprattutto le aziende dell'incoming, del tour operator, guardando bene chi fa incoming e chi non lo fa, devono avere un sostegno alla regione, quindi un contributo a fondo perduto ma urgente, altrimenti molte aziende non arrivano nemmeno alla fine dell'anno. È vero che possono sembrare briciole ripartite tra qualche centinaio di operatori, ma in questo momento servono anche le briciole. Ci sono probabilmente anche dei fondi che non saranno utilizzati. Io ricordo che quest'anno la regione aveva previsto dei contributi per le agenzie di viaggio, il tour operator, sulla base dei numeri delle presenze che in bassa stagione assicuravano, quindi i soggiorni che assicuravano in regione in bassa stagione. Sicuramente questi fondi saranno in parte non utilizzati, perché comunque la pandemia ha costretto a rivedere progetti e tanti annullamenti. Ecco, anche questi fondi potrebbero essere destinati al sostegno, al ristoro alle aziende di tour operator. Ma lo sciopero generale è lo strumento giusto per arrivare ad ottenere qualcosa? Beh, io sullo sciopero generale di oggi ho una mia personale idea e valutazione. Io non sono molto convinto dell'operato di questo governo. Se fosse stato un altro governo, probabilmente gli scioperi generali ci sarebbero stati a Iosa, non dico uno al mese, ma forse uno alla settimana. Pensare che in Italia abbiano deciso di riportare le pensioni a 71 anni, siamo l'unico paese nel mondo in cui le persone andranno, grazie ai provvedimenti del governo Draghi, andranno, finita questa finestra del prossimo anno, si va in pensione a 71 anni. Ma tutti tacciono, anzi, la legge dei giornali, questo è il governo dei migliori, dei più bravi. La riforma degli aliquoti IRPEF, anche se oggi su alcuni quotidiani il governo risponde replicando, dicendo che, dando altri dati, ma i dati lì non mi fido, la riforma degli aliquoti IRPEF è a vantaggio dei redditi sopra 75 mila Euro, con poche risorse per quelli invece dei redditi medio-bassi. E quindi non è convincente, insomma, l'azione del governo. Ma voglio dire anche sul fronte della sostenibilità ambientale, noi si è fatto un gran parlare del ministro della transizione ecologica, che secondo me di ecologico non ha nulla, d'altra parte veniva da Leonardo, insomma, quindi un'impresa che con l'ecologia e la sostenibilità non ha nulla a che vedere, senza nessun parere da parte del governo e da parte del Parlamento soprattutto, ha deciso in Europa che il nucleare è sostenibile. Quindi una, le politiche di transizione ecologica del nostro paese sono il ritorno al nucleare. Ma io dico che, allora, contro un governo di questo genere, lo sciopero generale è la cosa minima da fare, insomma. Parliamo adesso, Merigo, di cose positive. C'è stata una bellissima convention organizzata da Confcommercio Pesaro Urbino. si è tenuta a Villa Piccinetti e la cosa bella è stata proprio questa, perché erano presenti i sedici sindaci dei sedici itinerari della bellezza, dei sedici comuni appunto della provincia di Pesaro Urbino. Quindi un momento davvero molto bello è stato, ci sono state, l'abbiamo anche raccontato noi, di Rossini TV, e insomma deve essere una bella soddisfazione per voi. Sì, la convention era appunto l'evento di fine anno di questo progetto itinerario della bellezza che quest'anno aveva coinvolto tredici comuni, ma già acquisendo il consenso e il supporto di altre tre amministrazioni comunali, a Pecchio, Cantiano e San Lorenzo in campo, ripartiamo per il 2022 con sedici comuni. La presenza del vicepresidente della Regione, Carloni, degli assessori Aguzzi e Baldelli insieme agli amministratori dei sedici comuni è stato ovviamente di grande soddisfazione per Confcommercio, ma anche un apprezzamento del lavoro che stiamo svolgendo per valorizzare e promuovere a livello nazionale e internazionale questo nostro territorio. Quest'anno, il 2013, il 2021, è stato un anno di grande attività, di grandi iniziative, grandi eventi, grandi attività di comunicazione, di promozione. Io dico sempre che l'itinerario della bellezza è uno strumento che utilizza tutti gli strumenti appunto del marketing per valorizzare una destinazione turistica e noi questo abbiamo fatto, televisioni, pubblicità, partecipazione a fiere, educational, press tour, tanto lavoro di comunicazione. Quindi c'è stato l'apprezzamento dei sindaci, degli amministratori, prova nel fatto appunto che aumentano i comuni. E ovviamente io spero che nel 2022, per il 2023 aumentino ancora. Però l'occasione è stata anche quella di presentare i progetti e i programmi per l'anno 21, che sarà un anno di grande impegno, per il quale siamo già in azione. Intanto, come consuetudine, presenteremo la nuova edizione della guida dell'itinerario della bellezza alla BIT di Milano nel mese di febbraio, confidando che si possa tenere, che si possa svolgere. Prima ancora della BIT di Milano saremo al FITUR, che è la fiera del turismo di Madrid in Spagna, che è verso il 14 gennaio, dove presenteremo l'itinerario della bellezza, ma saremo coinvolti anche da questo progetto internazionale che è la Rotta dei Fenici, un progetto del Consiglio d'Europa, che coinvolge diversi paesi dell'area mediterranea e nel quale inseriremo anche il progetto dell'itinerario della bellezza, per dare respiro internazionale a questi nostri luoghi, a questi nostri territori. Sempre a fine gennaio usciremo finalmente con la prima edizione dell'itinerario del silenzio e della fede, dico finalmente perché ovviamente con l'ingresso anche di nuovi comuni abbiamo dovuto riscrivere parte dei testi, allargando appunto a situazioni molto importanti, come il caso di San Lorenzo in campo, dove c'è una basilica, una chiesa molto importante. Poi sempre nel mese di febbraio, se non ci sono cambiamenti temporali, presenteremo l'itinerario del mototurismo regionale, la prima guida regionale al mototurismo che prevede 15 itinerari, 3 per provincia, quindi tutta la regione Marche sarà coinvolta, proprio in questi giorni stanno girando in moto, per scoprire i percorsi, Raffaella e Raffaella, per scoprire i percorsi e metterli poi su carta. Sarà un progetto molto importante che presenteremo a livello nazionale perché è un segmento del turismo che ci interessa molto ed è in forte crescita come quello del ciclismo, solo che sul ciclismo e sul ciclo turismo se ne occupano in tanti, forse anche in troppi, il mototurismo invece non c'è nella nostra regione nessuna attività. A parte la presentazione di due progetti di legge, sia da parte del consigliere Biancani che da parte del consigliere Giacomo Rossi, del riconoscimento del ruolo della guida di mototurismo, la guida mototuristica. Poi entriamo ancora di più nell'anno dei festeggiamenti per i 600 anni della nascita di Federico da Montefeltro, che è forse uno dei personaggi più importanti della nostra regione. Quindi una nuova edizione dell'itinerario delle Rocche di Francesco Di Giorgio Martini, che era l'archistar, l'architetto che il Duca aveva chiamato a corte e che ha realizzato tante opere, non solo militari, nella nostra provincia, con anche una mostra che sarà realizzata sui capolavori martiniani. Poi altro passo sempre legato a queste celebrazioni è l'itinerario di Giovanni Santi, padre di Raffaello. Giovanni Santi e Francesco Di Giorgio erano due personaggi alla corte del Duca, quindi non festeggiamo il Duca direttamente, ma festeggiamo attraverso i personaggi che erano alla sua corte, una delle corte più importanti dell'epoca. E chiaramente con Giovanni Santi si parlerà delle opere che ci sono sul territorio provinciale, a cominciare da Cagli, dove probabilmente c'è l'opera più importante del padre di Raffaello, di Giovanni Santi, che è un affresco importantissimo della Cappella Tiranni, e poi da non dimenticare Fano, dove nella chiesa di Santa Maria Nuova ci sono delle palle, degli affreschi di Giovanni Santi, molto ma molto importanti, insieme alla pala del Perugino, con anche alcuni dipinti, la predella fatta da Giovanni Raffaello, quindi una cosa importantissima. Poi ripresenteremo una nuova edizione nell'anno, verso la fine dell'anno, dell'itinerario archeologico, perché l'abbiamo presentato da poco a Pestum e recentemente anche a Fano, però l'ingresso di San Lorenzo in Campo e di Apecchio e di Cantiano ci consentono un aggiornamento, perché a San Lorenzo in Campo c'è il museo archeologico di Suasa e quindi verrà inserito, così come anche il museo di Cantiano. Quindi insomma, tanto lavoro in progetto, ma in realtà poi le cose si maturano anche durante l'anno, perché poi durante l'anno abbiamo eventi che vorremmo valorizzare, come ad esempio la valorizzazione del segmento mare della nostra offerta turistica. Perché l'altra volta, Amerigo, hai detto ai nostri microfoni, nella speciale che è andato in onda proprio in questi giorni, Pesaro, ricordiamoci che è una città di mare. Ma perché non c'è un'esatta consapevolezza che Pesaro è la città di Rossini, la città della musica, ma è anche la città di mare, e che l'offerta balneare è ancora l'offerta più importante in termini numerici. E purtroppo quando sentiamo anche nei nostri uffici delle nostre tour operator, chiedono, ma vorremmo venire a Pesaro, ma cosa c'è? Ma sai, c'è il mare? Come c'è il mare a Pesaro? Addirittura. Ma questo anche nella recente assemblea dell'APA, la nostra associazione albergatori di Pesaro, è emersa da parte degli stessi albergatori, di questa difficoltà di far comprendere, di far capire ancora che pesa la città di mare. Sì, perché a livello di comunicazione la riviera romagnola ha impostato un vero e proprio brand dedicato al mare, cosa che potremmo fare anche noi, perché anzi il nostro mare è anche più pulito. Esatto. Se vogliamo proprio essere... Infatti noi faremo, questa è l'idea, di fare un itinerario della riviera del San Bartolo e della riviera di Fano. La riviera del San Bartolo, perché c'è stato questo progetto molto intelligente, fatto dai comuni di Pesaro, Gabiccio e Mare e Gradara, di tentare di valorizzare il parco del San Bartolo, che è l'eccezionalità del nostro territorio. Non a caso la Romagna, cattolica, in molte immagini pubblicitarie, ci mette il San Bartolo, come se fosse anche quello cosa romagnola. E noi abbiamo in mente appunto di fare questo itinerario con l'ingresso anche di Tavuglia, cioè tutta la parte nord della nostra regione, della nostra provincia, che sono il biglietto da visita, insomma, del nostro territorio, li vorremmo insieme in un progetto che è legato al parco del San Bartolo, diciamo allargato con Tavuglia, e la costa di Fano, Torrette, Fano e Torrette. Marotta no, perché Mondolfo, quindi... Comunque questa è una cosa molto importante, perché noi abbiamo un mare a parte bellissimo, e dal mare possiamo vedere degli scenari meravigliosi, perché, ad esempio, quando anche dalla barca tu puoi vedere il San Bartolo, tutta la nostra costa, cioè abbiamo degli scenari bellissimi anche visti dal mare, dal nostro mare, quindi è giusto, abbiamo tutta una parte che parla di pesce del nostro territorio, piatti del nostro territorio, quindi anche qui c'è tutta una promozione specifica da fare per ricordare ai cittadini di tutto il mondo che in queste zone c'è il mare e non c'è solo a 20 chilometri, insomma a Riccione o a Rimini. Sì, signora, infatti noi abbiamo puntato inizialmente molto sulla valorizzazione dei borghi e delle località minori, e continueremo a farlo perché è la caratteristica fondamentale, insomma, dell'offerta della nostra destinazione. Però non dobbiamo dimenticare che la parte preponderante dei turisti ancora nella nostra provincia avviene per l'offerta balneare e quindi va adeguatamente valorizzata, valorizzando poi tutta la filiera, diciamo, del mare, quindi la ristorazione, quindi i piatti tipici del territorio legati al mare, legati alla nostra attività, dei nostri pescherecci, insomma, della piccola pesca. Gli alberghi che si trovano anche in prossimità del mare. Gli alberghi che si trovano anche in prossimità del mare, quindi insomma tante iniziative per valorizzare questo segmento. Quando dico che facciamo l'itinerario, lo ripeto allo finimento, non vuol dire che facciamo una guida, facciamo anche una guida, ma mettiamo in campo tante iniziative di promozione, speriamo il prossimo anno di poter fare tante fiere in Italia e nel mondo, tante attività di comunicazione, magari utilizzando anche meglio Rossini TV, che è uno spimento prezioso per la nostra organizzazione, perché è un emittente molto professionale e con anche degli speciali veramente molto interessanti, fatti molto bene. Grazie, Amerigo ci fa molto piacere. Però insomma, tanto lavoro. Il turismo, quando io vedo che ancora non c'è la consapevolezza dell'importanza che ha il turismo per l'economia del nostro paese, ed è sempre trattato come la cenerentola, e ancora viene dopo ovviamente l'agricoltura, viene dopo ovviamente l'industria, viene dopo ovviamente il manifatturiero, viene dopo la pubblica amministrazione, ma il turismo è il settore che può dare lavoro a tutto il paese, perché è l'unico settore trasversale, perché con il turismo ci lavorano gli artigiani, ci lavora l'industria, ci lavora la ristorazione, ci lavora il commercio, eppure non ha l'adeguato spazio, anche nel famosissimo ormai PNRR, da cui deriveranno 200 e passa miliardi nel nostro paese, il turismo 2 miliardi. Vuol dire, secondo me, non avere capito ancora, ma probabilmente non lo capiranno mai, l'importanza che questo comparto ha, e quindi le imprese vanno sostenute, l'appoggio per anche la riqualificazione delle strutture ricettive, il sostegno del tour operator, l'attività promozionale, noi ad esempio il prossimo anno siamo molto in attesa di vedere la nascita della nuova azienda per il turismo e l'internazionalizzazione della regione Marche, Atim, che è stata definitivamente approvata la settimana scorsa dalla regione, anche se la partenza sarebbe stata rinviata a giugno del 2022, ma siamo molto interessati, perché intanto noi l'avevamo proposta in tempi non sospetti, quando ancora non c'era nemmeno la giunta a Quaroli, oggi è diventata legge della regione Marche, ed è uno strumento molto importante perché consente di promuovere il Made in Marche, interamente il Made in Marche, il turismo e le produzioni manifatturiere e l'agricoltura a livello internazionale. Probabilmente è lo strumento che può dare veramente la spinta definitiva a un maggiore riconoscimento dell'importanza delle Marche nel mondo del turismo. Speriamo, vedremo cosa accadrà il prossimo anno, comunque siamo fiduciosi a Merigo, cerchiamo di portare avanti le nostre battaglie per la promozione del nostro territorio, lo facciamo anche noi di Rossini TV, cerchiamo di promuovere tantissimo il nostro territorio e ricordate che la promozione avviene sia a livello regionale, perché il canale è regionale, ma poi tutta la nostra produzione di video, green tour, tanti video che facciamo e di cose di cui parliamo vengono poi diffuse sui social, su Youtube, quindi la promozione arriva davvero in tutto il mondo. Questa mattina seguiva la rassegna stampa una persona di Como, saluti da Como, che guardava la nostra rassegna stampa. E quindi, insomma, continuiamo questa lotta, noi della TV ci siamo, Confcommercio è sempre presente per incrementare e incentivare il turismo. Merigo, auguri di buone feste. Grazie e auguri anche a voi di Rossini TV e a tutti gli ascoltatori. Chiaramente anche a voi e tutti gli ascoltatori, ci vediamo nel nuovo anno. Benissimo, grazie. Buona serata a tutti voi.